E' andato deserto ancora una volta il Consiglio Comunale di Chieti, chiamato ad approvare i bilanci di Chieti Solidale, del Teatro Marruccino, il Piano Triennale delle Opere Pubbliche e il bilancio di previsione 2018-2020. Solo 16 consiglieri erano presenti. Se ne riparlerà in seconda convocazione il prossimo lunedì. Intanto ieri sera il DOP, il documento unico di programmazione 2017, è stato approvato con due estensioni dei consiglieri di maggioranza, Mario Delio e Stefano Rispoli. E' un episodio questo che comporta alcune valutazioni da fare sulla tenuta della maggioranza. Valutazioni che in conferenza stampa hanno annunciato anche i consiglieri di opposizione, che parlano anche di ricorsi possibili riguardo a quando è stato approvato. E a proposito, nel prossimo Consiglio Comunale ci sarà anche qualcosa che riguarderà ancora il DOP, un aggiornamento sulle cose da fare. Insomma, la situazione dei condi al Comune di Chieti è sicuramente difficile e si presta a tantissime polemiche. La maggioranza al momento sembra tenere, vedremo.